Buonasera, mi presento, mi chiamo Luciano Volpato, sono del 71, sono nato e vivo in un paesino in zona limitrofe qui a Venezia. Ho una passione particolare per l'arte astratta, con la quale ho realizzato oltre 100 opere, di cui alcune potete appunto vederle a questa mostra. Se volete visionarle tutte, potete farlo attraverso il mio profilo Instagram, de.artistinme. Grazie. Grazie.